Ciao a tutti e bentornati sul canale di YouTube di noi che usiamo Lightburner. Oggi facciamo un test particolare, facciamo un test dei materiali. Direte, che novità. Sì, è una novità, perché non vi faccio fare quello che siete abituati a vedere con i quadratini, potenza, velocità, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere tutta un'altra cosa. Vi faccio proprio un test, non del laser sul materiale, ma proprio il test del materiale, come si fa e a cosa ci può servire. Andiamola a vedere. Allora, quante volte sui post dei gruppi, sui commenti dei gruppi di Facebook, a destra, a sinistra, a dove volete voi, si trova chi fa la domanda perché non mi ha tagliato bene il laser del mio multistrato? Solitamente questo materiale, test che faccio, è sui multistrati. E quindi vi farò vedere alcuni multistrati che utilizzo io. Perché non taglia bene? Ci possono essere tanti e svariati motivi. Allora, per fare questo test, io ho bisogno principalmente di due cose. Primo, ho bisogno, logicamente, del legno o del multistrato, di quello che volete. Quindi, ognuno ce l'avrà, perché se lavorate con il laser, chissà quanto legno avete in casa. Io c'ero un pochettino e, per non farlo troppo lungo, ve lo farò vedere su alcuni pezzi che ho qua. Qualcuni già in parte lavorati, qualcuni no. E poi ci vuole una lampada abbastanza potente. Se non avete una lampada abbastanza potente, i risultati si vedono lo stesso, ma non sono così evidenti come una lampada di grossa potenza. Andiamo a vedere il primo di questi test del mio materiale, proprio il mio. E vi farò vedere quali sono le cose che dobbiamo andare a cercare e come, al limite, ovviare a quegli inconvenienti che vi ho detto prima. Ovvero, il pezzo che non si stacca, il pezzo che si stacca male, eccetera, eccetera. Continuiamo con questo test. Questi sono i materiali che andrò a testare. Ecco, questo è il primo. Come vedete, l'ho già utilizzato per alcuni lavori, quelli che avete visto nel video del progetto di Natale. Questo è il secondo. Come vedete, non ci sono grossi nodi superficiali. Qui si vede una leggera ombreggiatura. Anche questo si vede una leggerissima ombreggiatura al centro. Poi lo andremo a esaminare bene, però quando andremo proprio a sezionarli e andargli a fare proprio il test specifico. Questo è il quarto. E infine andiamo a vedere l'ultimo dei pannelli. Ecco, questo è l'ultimo. E con questo vi ho fatto vedere quali sono i materiali che andrò a testare. Ecco, adesso ho posizionato un pezzo di multistrato sopra un faretto acceso. Ecco, cominciamo ad ispezionare il nostro pezzo di multistrato. Andiamo a vedere. Vedete, è un po' come fare un'ecografia. Mi sento tanto dottore in questo momento qua. E vedo che c'è subito qualcosa qua. Vedete? Questa è una bella macchia. E questa macchia solitamente identifica un nodo un grumo di colla o un ammasso, diciamo, non regolare. Quindi cosa faccio? Una volta che ho identificato questa me la vado a marcare con un piccolo segno di matita. in questo modo. Così so che qui c'è un difetto abbastanza grave. Andiamo a vedere qualcos'altro. Cambio il pezzo di multistrato. Vedete qua che bello occhio. Questo è sembra un occhio di un cagnolino. Anzi, di un cagnolone. Vado a vedere C'è quello che distorce un po' è il sensore di movimento che è un PIR Qui c'è un'altra macchia Mi allontano il sensore da meno fastidio Ecco, vedete? Faccio due belle macchione di nodi. Faccio un giro Guardate qui che pezzo nero che c'è Anche questo è una bella macchia Questo qui sembra quasi una una... come si chiama? Una galassia. C'è veramente tanta roba. E' di buona che questo è un pezzo che mi avevano detto che era di materiale ottimo comprato su Amazon e costava anche abbastanza. Andiamo a vedere un altro sempre materiale preso Guardate Ecco, se il taglio incontra questi questi nodi è fatica e non viene bene Quindi anche in questo caso il consiglio è quello di andarlo a marcare come avete visto prima che ho fatto con una faccio rivedere con una matita ci vado a fare un cerchio intorno e praticamente so che in quel punto lì è lontano perché c'è il cursore vedete un altro punto qua abbastanza importante Andiamo vediamo laggiù c'è un altro qui c'è un altro e qui mi sembra proprio di essere un pedico che sta facendo qui più un'endoscopia proprio quasi non scherziamo su queste cose andiamo a vedere gli ultimi due pezzettini materiale preso da un brico qui vicino a me era un retaglio c'è questa linea leggermente qui riconoscete magari uno dei progetti di Natale le renne eccole qua le tagliate di qua e qui vedete che è molto meglio di quanto credevo a parte che non ho avuto grosse problematiche non ho avuto grosse problematiche con il taglio di questo di questa parte vedete è abbastanza pulito c'è questa striscia bianca e mezzo vuol dire che c'è una densità un pochino più leggera però non è male quest'ultimo preso più o meno nello stesso brico vedete anche qua c'è qualche difettuccio qui vuol dire che queste sono venature un pochino di traverso però sono sempre venature diciamo quasi accettabili ecco qua comincia ad esserci un pochino più marcato vedo laggiù un occhio eccolo qua un occhio vabbè un nodo ve lo faccio vedere bene ecco quindi come dicevo prima se sappiamo dove sono i nodi ce li andiamo a marcare e cerchiamo di evitarli ecco queste che vi ho fatto vedere sono quasi tutti multistrati 3-4 mm che sono quelli che si usano di più vedete anche qui ci sono un po' di righe però niente di che a parte questo nudo che possiamo evitare poi vedete quando ci sono queste trasparenze così nette qui c'è scarsa o scarsa materiale oppure ci potrebbe essere qualche goccio di colla che riflette un po' ecco francamente penso che sia più un discorso di mancanza di qualche punto vabbè abbiamo visto un po' di di cose guardiamo questo che invece mi incuriosisce questo questa è un'impurità sicuramente che infatti è un'impurità superficiale queste sono impurità che sono interne al legno ma queste si vedono abbastanza bene anche ad occhio ecco abbiamo visto quali possono essere i problemi allora con questo non è che vi dico che dovete andare quando andate a comprare i vostri pannelli muniti di faro led facendovi attaccare la presa del vostro fornitore per sezionare e vivi sezionare i pannelli uno per uno però quantomeno diciamo prima di affrontare un progetto magari un progetto abbastanza impegnativo e se vogliamo evitare di avere problematiche del pezzo che non si stacca eccetera beh facciamo questa prova controlliamo se ci sono dei nodi magari ce li marchiamo come vi ho fatto vedere nel video appunto per evitare che il taglio passi proprio lì sopra perché vuol dire che se lo facciamo passare lì sicuramente un piccolo difetto ci sarà quindi questo potrebbero essere questi potrebbero essere dei metodi per andare a lavorare un pochino più tranquillamente quindi per andare poi a staccare pezzi senza grosse problematiche specialmente nei progetti piccoli vabbè mettiamo porta chiavi ci posso mettere anche in mezzo al centro un bel nodo tanto il taglio lo faccio intorno chi se ne frega non si vede né di qua né di là e il mio taglio mi viene via bene però un progetto abbastanza grande abbastanza impegnativo e così via che se devo rifare un pezzo devo metterci un quarto d'ora 10 minuti 20 minuti per ritagliarlo e butto via del materiale ecco allora facciamoci attenzione ora io mi auguro che il video vi sia piaciuto se è così un like provateli anche voi divertitevi perché è anche un po' un divertimento riuscire a capire con le luci di casa si fa fatica già io che ho delle illuminazioni per fare le riprese abbastanza sostenute non si vedono molto bene un faretto una lampada d'emergenza abbastanza potente una pila abbastanza forte magari vi mettete al buio si vede meglio e riuscirete a scoprire i nodi perché qui bisogna scoprire i nodi non vi ho ancora detto di iscrivervi al canale ma sicuramente lo farete dopo questo video perché questo è un suggerimento che non l'ho ancora visto si può dire che da nessuna parte perlomeno in Italia non l'ho ancora visto e quindi iscrivetevi al canale perché trovate solo qua le cose con la campanellina che non vedete quando queste cose vengono fuori e un bel like e se volete abbonatevi pure mi fa piacere ok al prossimo video e ci vediamo ciao a tutti